Buonasera a tutti, benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale e come sempre parlerò dei problemi del mondo del lavoro, del lavoro di chi non ce l'ha e chi ce l'ha che muore di lavoro e oggi partiamo subito con un argomento che è quello che troviamo spesso in questa fase di crisi del sistema di produzione capitalistico, dove si inneggia sempre di più al libero mercato e alla libera concorrenza. Ma a chi è funzionale questa frasetta, libero mercato perché così c'è la concorrenza e vengono abbassati i costi e alla fine ci guadagna il consumatore? Questa è la tendenza, questo è quello che ci vengono a dire per televisione, i giornali e i media in generale dice questo, ma poi le condizioni a cascata, quale sono per il mondo del lavoro? Non certo quella di migliorare le condizioni di chi alla fine poi crea il valore, chi poi crea prodotti che servono per l'umanità, per vivere. L'esempio viene, uno dei tanti esempi, ne citerò alcuni, che sono apparsi in questi 15 giorni, io non faccio niente altro che raccogliere queste cose e poi darle un senso, una chiave di lettura che è quella della sinistra, della sinistra storica che parte dal 1921 e addirittura prima quella detta del comunismo di Carlo Marx e vediamo questa tendenza. Allora questi filantropi che inneggiano alla libera concorrenza e al libero mercato, alla fine le conseguenze per il mondo del lavoro sono queste. Il problema dei voucher, un attimo di storia, i voucher sapete le organizzazioni sindacali, la CGL in questo caso ha raccolto più di un milione di firme per un referendum, per l'aboluzione dei voucher, il governo cosa fa per evitare il referendum? Prima abolisce di brutto i voucher, quindi li toglie dalla possibilità di fare questo referendum, ma poi li ripropone. Con quale risultato? Questo è il risultato, uno dei tanti risultati riguarda per esempio l'utilizzo dei voucher nel mondo dell'agricoltura come lavoro. Allora vi leggo semplicemente cosa succede, succede che con l'inserimento dei voucher un lavoratore in agricoltura e precisamente riguarda gli ortaggi, la raccolta di frutta e ortaggi viene pagato 6,52 Euro medi all'ora contro il contratto nazionale di lavoro per questi lavoratori, fatto nella regione Emilia e Romagna e che è mediamente pari a 8,13 Euro l'ora media, quindi l'introduzione del voucher in questo caso, quindi della retribuzione del mondo del lavoro, c'è un abbassamento netto delle condizioni di retribuzione, dove si passa da 8,13 Euro medie all'ora, si passa a 6,52 Euro e questo è lo stesso Stato che dimostra qual è il suo vero volto, lo Stato è il comitato di affari della borghesia, quindi lui stesso si incarica di abbassare il costo del lavoro attraverso l'abbassamento del salario, ma non solo, sui giornali appare il 13 luglio di quest'anno che sono stati condannati nel Salento 4 imprenditori e 11 caporali, che poi fra l'altro erano anche extracomunitari, che schiavizzavano i migranti, cioè queste persone venivano adoperate in agricoltura e vengono condannate, poi per fortuna questi lavoratori hanno avuto il coraggio di denunciare questa cosa e il giudice li condanna per le condizioni terribili del lavoro e le paghe misime, l'assenza totale di contratti, la situazione dell'alloggiativa precaria e le minacce in cui erano sottoposti, queste sono le condizioni di lavoro per retributive inneggiando alla libera concorrenza, perché così vanno a diminuire i costi, però non si parla mai e poi ne parleremo dei profitti di queste aziende, delle aziende dove vanno poi alla fine i profitti. Altra cosa che è apparsa sulle cronache di giornali il 14 luglio sono che i poveri in Italia sono triplicati in 11 anni tra giovani e minori, ma è logico che se si vanno a dare queste condizioni, a retribuire queste condizioni i lavoratori, i prestatori d'opera, che si va verso la povertà, per cui non si riesce più ad avere un minimo, non si riesce a dare, perché l'Istat classifica come poveri, assoluti, le persone non in grado di acquistare un paniere di beni e servizi essenziali a uno standard di vita minimamente accettabile che varia in base alle dimensioni della famiglia, all'età e al comune. Sono più penalizzati come sappiamo quelli del sud, meno quelli del centro, ma sono penalizzati e soprattutto le famiglie con più dei tre figli, ma è logico con questi salari da fame che aumentano la povertà, infatti i dati di status danno che 4,7 milioni di italiani in povertà assoluta e sono cresciuti di 140 mila unità rispetto al 2015. Nonostante ci sia una pletoria di prodotti e i prodotti non sappiamo dove venderli, a chi darli, infatti per il capitale la crisi è data dalla sovraccapacità produttiva, cioè si produce di più di quello che il mercato riesce ad assorbire, ma per il capitalismo il mercato, la vendita del prodotto viene dato, perché è proprietà privata del prodotto, ma qui ci sarebbe proprio tutto da discutere, vedere se il prodotto è proprietà privata di alcuni proprietari, detentori di risorse umane, di ricchezze naturali, soltanto viene conosciuto il mercato, conosce soltanto un compratore, cioè uno che dà ai soldi per comprare, quindi in realtà la produzione sarebbe più che sufficiente per far vivere dignitosamente la popolazione mondiale in modo libero e dignitoso, in armonia con l'ambiente, in realtà si preferisce lasciare i prodotti anche alimentari e poi le cronache sono piene tutti i giorni distrutti e che i prodotti agricoli vadano distrutti, purché questi vadano ad abbassare il loro costo sul mercato, ad esempio della frutta periodicamente o dei pomodori periodicamente, o del latte o delle altre cose, quindi si preferisce che la gente, anzi il capitale è ben contento, la borsa sale quando invece il prezzo, quando c'è una crisi, quando quindi il prezzo di questi prodotti sale e tornando al discorso dei salari o della povertà, Repubblica di mercoledì 12 luglio spiega il mistero dei salari perduti, cosa dice? Mai, cito o leggo quello che dice l'articolarista Maurizio Ricci, è un borghese che non capisce secondo me niente, dice mai nell'economia moderna era successo che una recessione finisse e il risultato non si vedesse nell'aumento dei salari, interi modelli econometrici sono costruiti sul presupposto che quando l'economia riparte le imprese assumono, i lavoratori diventano scarsi e in base alla legge della domanda e dell'offerta i salari salgono, ma questa volta no, l'economia appare in buona salute di qua e di là dell'Atlantico, la disoccupazione continua a scendere, abbiamo visto l'altra volta come viene calcolata la disoccupazione, basta che nella settimana si vengono a scendere, l'economia appare in buona salute di qua e di là dell'Atlantico, la disoccupazione continua a scendere, abbiamo visto l'altra volta come viene calcolata la disoccupazione, basta che nella settimana di riferimento uno lavori un'ora, sia retribuito o meno, non è più disoccupato, ma i salari stanno appena al livello dell'inflazione e non va bene affatto, senza la spinta dei salari l'inflazione non riesce a risalire sopra il 2% e la deflazione resta in agguato, peggio, il 70% dell'autonomia moderna è fatto di consumi e se la gente non ha soldi per comprare, il sistema resta come guilli il coyote, sospeso nel vuoto o come ripete più solenemente Draghi, la ripresa non è in grado di sostenersi da sola. Ma la libera concorrenza che dà questo, infatti nel Corriere della Sera del 20 luglio, proprio in editoriale, welfare e politica, Daniele Armanca cita il suo articolo, è il lavoro al centro, a parole, infatti dice che l'effetto più dirompente creato dalla rivoluzione tecnologica, mancanta crescita, concorrenza estrema tra aziende e paesi, sappiamo che la concorrenza porta a questo, alla riduzione dei costi che vengono fatte attraverso l'abbassamento dei salari, ma questo viene fatto in generale su tutta la forza lavoro e lo Stato che fa, lo Stato che abbiamo detto prima è il comitato di affari dei potenti e lo Stato per far partire l'economia, elargisce soldi a pioggia agli industriali purché essi assumino e poi i risultati sono quelli che sono. Questo è il Corriere della Sera del 16 luglio, porta una serie di dati di quanti soldi sono stati erogati per assunzione del personale e attraverso la Job Act e altre forme di incentivo di sgravi fiscali per le imprese purché assumano dei giovani e parla di fiorfiori di migliaia di Euro, sgravi contributivi usati per i senior meno per gli under 24 e parla di attraverso la Job Act parla di 8 che si davano 8 mila Euro l'anno per 3 anni con la Job Act purché si assumesse una persona a tempo indeterminato che è quello poi fra l'altro di 3 anni, ma non solo, ma altri sgravi fiscali vengono dati alle imprese purché assumino giovani, tant'è che si dai uno sgravo fiscale di 8 mila Euro per ogni nuovo assunto con quel livello di costo del salario, in pratica lo Stato gli paga l'assunzione, quindi il lavoratore viene pagato gratis, altro effetto nel rovescio della medaglia è che più soldi dello Stato eroga a fondo perduto alle imprese, ma vengono erogate anche, abbiamo parlato l'altra volta dell'ammortamento o del superammortamento per innovazioni tecnologiche, sono soldi che vengono meno per servizi per i meno ambienti, per quelli che non si possono permettere di pagare la sanità e l'altra volta abbiamo anche parlato della gente che non si cura più, ogni tanto poi i giornali sembra che scoprino l'acqua calda. L'effetto quindi di abbassamento dei salari da una parte e incentivi o sgravi fiscali dall'altra parte all'azienda porta che in Italia, questo è il dato, 307 mila famiglie sono milionarie, al 1,2% del totale delle famiglie, il 20,9% della ricchezza, quindi 307 mila famiglie detengono il 20,9% della ricchezza nazionale e sono l'1,2%, infatti sulla Repubblica del 14 del 7, in Italia ci sono 307 mila famiglie che hanno un portafoglio investito in titoli di Stato, azioni, depositi o altri strumenti finanziari dal valore superiore di un milione di dollari, circa 880 mila Euro al cambio attuale. Nelle mani dell'1,2% delle famiglie ci concentra così il 20,9% della ricchezza finanziaria italiana, circa 4.500 miliardi di dollari, di qui, cioè in questo passo, di questo passo al 2021 questa truppa di famiglie di paperoni dovrebbe arrivare a quota 433 mila, la forbice resterà ancora più ampia perché saranno l'1,6% delle totale delle famiglie, ma la fetta di ricchezza nelle loro mani salirà al 23,9% e sfiorerà così un quarto del totale, quindi un quarto del totale della ricchezza viene detenuta, verrà detenuta da 443 mila famiglie, ma come la ricchezza viene calcolata in titoli di Stato, azioni, cioè valore non reale, in potenza perché chi poi costruisce il vero bene è il lavoratore, perché da quando è mondo è mondo, l'essere umano ha bisogno di abitare, di vestirsi, di mangiare, di muoversi, ma questi prodotti vengono dati materialmente da persone che non sono le più ricche del mondo, ma sono quelle che guadagnano 6,52 Euro all'ora o anche meno per creare l'effettiva ricchezza del nostro sistema. Ma cosa diciamo alla fine? Sembra un piagnisteo? No, in realtà non è un piagnisteo, è una situazione che io vorrei dire che così appellarsi alle organizzazioni sindacali attuali mi sembra un po' assurdo, sono la stampella del sistema attuale, infatti su un articolo di giornale l'altro giorno veniva sul giornale del Corriere della Sera del 16 luglio, trucchi per triplicare le pensioni dei sindacalisti da 39 mila a 114 mila Euro, se pensate che questi sono poi i vertici, magari il delegatino di base vive le contraddizioni di tutto il giorno all'interno del posto di lavoro, ma se questi dovrebbero, questi che fanno i furbetti per triplicarsi la loro pensione, pensate se a questi interessa venire a difendere i più deboli, però c'è anche qualcosa di positivo, come si può fare? Ci sono in piedi, anche per capire come ci si può difendere le lotte dei gig economy, cioè l'economia dei lavoretti. Da qualche mese stiamo assistendo a importanti processi di auto-organizzazione in aziende del settore del food delivery, come Deliveroo e Fedora. Nascono piattaforme online di lavoratori in lotta a Berlino, Barcellona, Madrid, Londra, Torino e Milano e cominciano a stabilire i primi collegamenti internazionali. Si tratta di proletari al punto di svolta tutti con uno smartphone in tasca, tutti organizzati in rete, senza sindacati corporativi, senza nulla di perdere nemmeno un posto di lavoro che non c'è più. Ecco, ci sono questi tentativi e questo è un po' lo sbocco, non dobbiamo abatterci, ma cercare di organizzarci, cercare di prendere contatto, cercare di parlare fra di noi e di vedere anche delle soluzioni da fare, delle lotte anche da fare per migliorare le nostre condizioni di vita e di lavoro. Certo che se noi non ne parliamo, se noi non ci facciamo vedere o sentire, chi vive sulle nostre spalle, sul frutto del nostro lavoro non farà di certo, anzi ci terrà sempre più giù. Quindi l'invito a prendere contatti anche attraverso questa radio, i primi contatti si possono fare anche per iniziare a parlare, anche per iniziare a discutere su come fare. Io vorrei un attimo concludere anche parlando un po' più generale del problema degli Stati Uniti, che cosa succede negli Stati Uniti, anche perché quello che succede negli Stati Uniti influenza un po' tutto il mondo. Io volevo leggervi un po' il risoconto di una teleconferenza fatta dai compagni di NPU, questa la potete trovare sul sito www.quinterna.lap, ogni settimana questi compagni fanno delle teleconferenze proprio per abbattere come prima i lavoratori si ritrovano con lo smartphone, loro abbattono le distanze attraverso la teleconferenza e se sono andate sul loro sito potete anche chiedere di assistere e partecipare a queste teleconferenze. Questi compagni sono compagni che vengono da lontano, cioè si fanno al bordighismo, quindi alla nascita del Partito Comunista del 1921 e un filo da tessere ne hanno. Io volevo leggere un po' per capire la situazione negli Stati Uniti e nel mondo in generale, che poi influenza anche noi alla fine. Dicono che il dollaro è ancora la principale moneta di riserva e di scambio internazionale, ma non è più sostenuto dalla potenza economica di una volta. Se gli Stati Uniti consumassero di meno, avrebbero meno debiti, ma comprerebbero anche meno merci dalla Cina, che, ricordiamolo, possiede buona parte del debito pubblico americano. Quest'ultima, intanto, vede aumentare la sua presenza nel mondo, dal porto del Pireo in Grecia alla nuova base militare in Djibouti. Passando per il progetto della nuova Via della Seta, il dragone è costretto a espandersi per dare sfogo alla sua esuberanza produttiva. Anche l'India, che per numero di abitanti è salita in prima posizione, sarà costretta a fare altrettanto. Però il pianeta è piccolo e la crescita di un paese va a scapito dell'altro, proprio perché abbiamo visto prima, cioè lotta fra paesi uno e l'altro per procurarsi il mercato. A tal proposito abbiamo ricordato l'articolo Il Fiatto sul Collo e l'articolo che poi lo potete trovare sempre su questo sito, dice «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina per la loro politica orientale, ma gli servirebbe meno indipendente. La corraltura del cerchio non è fattibile. D'altra parte, Giappone, Russia e in India non sono alleati tradizionali e gli Stati Uniti devono per forza continuare la politica orientale imperniata sulla Cina iniziata da Nixon. Ognuno dei due paesi non può che appoggiarsi all'altro, ma non può ovviamente rinunciare al proprio ruolo locale e mondiale. I sondaggi reciproci, compresi gli incidenti di percorso, e ne vediamo sempre più spesso, vanno intesi in questo senso, sempre più concorrenti, quindi Cina e Stati Uniti sempre più concorrenti, ma sempre più legati da comuni interessi». Questa è fine nella citazione dell'articolo. E quindi continuano. Insomma, se saltano gli USA, salta anche la Cina e viceversa. E siccome i rapporti interimperialistici stanno velocemente degenerando, il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti lancia l'allarme. Un compagno ha letto e commentato alcuni impassi dell'articolo Pentagon Study Declarer America Empire is Collapsing, del giornalista Nafeth Hamed, il quale analizza uno studio del Pentagono, in cui si afferma che l'ordine internazionale, sostenuto dagli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale in poi, starebbe crollando, pertanto gli americani a perdere la propria posizione di primato negli affari del mondo. Per contrastare questo processo, il Dipartimento di Difesa propone più sorveglianza, più propaganda e più espansione militare. Nello studio si nota inoltre che non è solo l'America ad avere dei problemi, ma l'autorità dei governi in tutto il mondo che si sta dissolvendo. Gli Stati Uniti, dice l'articolista, è la struttura tradizionale delle autorità politiche, sono sotto la pressione crescente di forze endogene ed esogene. La frattura del sistema globale post-guerra fredda è accompagnata dall'acerazione interna del tessuto politico, sociale ed economico di praticamente tutti gli Stati. È stata letta anche un'intervista dell'Espresso, del sociologo Wolfgang Strick, direttore del Max Planck Istituto di Colonia, scusate il mio inglese ma non sono tanto bravo, che nel suo ultimo libro How Will Capitalism End? Isis on a Falling System? sostiene che il capitalismo è fallito. Il fatto che il capitalismo sia riuscito a supervivere alle teorie della sua fine non significa che sarà in grado di farlo sempre. La sua sopravvivenza è sempre dipesa da un costante lavoro di riparazioni, ma oggi le tradizionali forze di stabilizzazione non possono più neutralizzare la sindrome della debolezza accumulata. Il capitalismo sta morendo perché è divenuto più capitalismo di quanto gli sia utile, perché ha avuto troppo successo sgominando quegli stessi nemici che in passato lo hanno salvato, limitandolo e costringendolo ad assumere forme nuove. Siamo di fronte a una dinamica endogena di autodistruzione, a una morte per overdose da se stesso. Seguirà un lungo interrenum, un prolungato periodo di entropia sociale e disordine. La sua fine va intesa come un processo, non come un evento. E questo è finita la citazione dell'articolo sull'Espresso. I compagni fanno un'analisi e dice interessante, il capitalismo è morto perché ha avuto troppo successo. Viene in mente Marx quando scrive che il maggior nemico del capitale è il capitale stesso. Nella citazione di portata sopra termini e linguaggio somigliano ai nostri, ma non c'è da stupirsi. Siamo tutti risucchiati dal vortice della rivoluzione e tutti dobbiamo fare i conti con essa. Però solo chi ha gli strumenti teorici adatti riesce a orientarsi nel marasma sociale in corso. Strick proprio non ce la fa trarre conclusioni coerenti con le premesse del suo ragionamento e arriva a sostenere che dobbiamo rendere meno globale il capitalismo perché non esiste futuro ordine europeo senza gli stati nazionali. E questa è la sua interpretazione. Noi pensiamo e io penso e tutti quelli che hanno un modo di pensare diverso e pensano che questa società non è la società ultima ma c'è la possibilità di avere una società diversa dove c'è una programmazione, una pianificazione della produzione e non il libero mercato sia possibile. Andate a vedervi, a leggervi tutte queste cose sul sito www.quinterna.lab.org. Anche per questo lunedì ho finito. Ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!